Affermare che il traforo del Gran Sasso non chiuderà il 19 maggio come annunciato da Strada dei Parchi non è proprio esatto. È più giusto dire che non dovrebbe chiudere. Infatti l'annuncio ufficiale sulla revoca di chiusura della galleria sull'A24 non è ancora arrivato né dal concessionario né dal Ministero delle Infrastrutture. Sicuramente a Roma ci stanno lavorando per mettere tutto nero su bianco, per rendere le misure di sicurezza un atto definitivo. Ma ad oggi non c'è niente di ufficiale. Il ministro Toninelli e il vicepremier Di Maio assicurano che al MIT si stanno impegnando notte e giorno per trovare la quadra. Insomma, un braccio di ferro tra Strada dei Parchi e Ministero. Una situazione drammatica, come affermano i sindaci dell'Aquila e di Teramo, dove gli abruzzesi sono stati usati come scudi umani. Il clima che in questo momento si respira è però di ottimismo. È stata sospesa infatti la manifestazione di protesta sull'annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, organizzata dall'amministrazione comunale di Teramo alla rotonda dello svincolo della Gammarana. Il sindaco Gian Guido Dalberto, in una nota, ha dichiarato che è stato probabilmente ottenuto un successo su una battaglia ed ha aggiunto Noi però intendiamo vincere la guerra e cioè riportare in sicurezza l'acquifero e tutto il sistema idrico della montagna. Per questo continueremo a vigilare e a chiedere confermezza che ci si attivi ciascuno per la propria parte fino al raggiungimento di tale risultato. In ogni caso, avverte Dalberto, la manifestazione di protesta rimane aperta ad una sua eventuale riproposizione. qualora le azioni messe in campo per la salvaguardia del sistema Gran Sasso dovessero rivelarsi inefficaci o inadeguate.